La sospensione dei lavori del progetto per la realizzazione dell'Otto Zero ha riacceso il dibattito politico al Comune di Isernia. Questa mattina la conferenza stampa dell'opposizione per chiedere la riapertura dei lavori. Il Termolisi ha bocciato la valutazione di impatto ambientale del progetto Lotto Zero, decisione che ha acceso ancora una volta lo scontro politico al Comune di Isernia. I pareri sulla realizzazione dell'opera erano e restano contrastanti. Se da un lato il primo cittadino Piero Castrataro è convinto del no al progetto, l'opposizione reputa inopportuna la sospensione dei lavori, così come dichiarato durante la conferenza stampa in Comune. Ci torniamo qui a rimarcare con una cosa stamattina, che il sindaco di Isernia ha questa sentenza esultata. E questa è una cosa gravissima, abbiamo ritenuto veramente gravissima. Lotto Zero è un'opera importante, voluta da tutta la popolazione di Isernia e su tre sindaci sui territori grava appunto il progetto, soltanto il sindaco di Isernia ha affiancato il comitato cosiddetto non l'otto zero, che tutti sappiamo, benché rispettabilissime persone, ma è composto da un numero molto ridotto di persone, parliamo forse di 10-15 persone, a fronte di una cittadinanza che vuole assolutamente la realizzazione dell'otto zero. E noi questo l'abbiamo fortemente rimarcato. Abbiamo un sindaco che invece si è adoperato affinché quest'opera fosse fermata. Lui parla di una variante al progetto, tutti sappiamo che se viene fermato questo rischia di non potersi più compiere. E questa è una grossa gravissima per il comune di Isernia. L'altro giorno erano in opera oltre 100 dipendenti, oltre 100 lavoratori, che stavano appunto lavorando sul territorio per la realizzazione dell'opera, rimandati a casa. Abbiamo avuto telefonate di tanti ragazzi qui di Isernia, che sono stati contattati dalle ditte che stavano facendo lavoro, rimandati a casa. Ma questo è un aspetto che possiamo considerare temporaneo. Invece la realizzazione della strada è un aspetto che noi dobbiamo considerare nel tempo. Un'opera che rimarrà per il bene di Isernia. Noi dobbiamo evitare che possiamo fare una traversa urbana, interna, che possa nuocere alla salute dei cittadini. Parlo di Viale 3 marzo 1970 e Viale dei Pentri, che sarà sicuramente attraversata già al momento da un consistente traffico. La realizzazione della Fondo Valle Sangra sarà fatta nel 2025 e sarà quindi terminata. Tutto il traffico che arriverà nella zona interna del Molise, nei nostri piani di insediamento produttivi, nelle nostre attività, attraverserà questa strada. Dovrà attraversare questa strada. Invece se non verrà realizzata dovrà necessariamente attraversare la zona interna di Isernia. Abbiamo già via Colonia Giulia che ci insegna tante cose. È forse una delle strade, purtroppo bisogna dirle, più inquinate d'Italia. Se noi oggi non approfittiamo di questa possibilità, attenzione, una strada finanziata all'epoca da un governo che era di centrosinistra, non possiamo dire certamente di centrotestra, quindi voluta da tutti, ma attenzione, non voluta da chi? Dal sindaco di Isernia. Un sindaco che ha preso questa decisione non in Consiglio Comunale, ma quando si è riunito, probabilmente nelle sue prime riunioni di giunta, ha deciso di fare il corso al TAR contro la realizzazione dell'8-0, trovando un cavillo prettamente e squisitamente amministrativo, facilmente superabile. Abbiamo avuto rassicurazione da parte del Presidente della Regione Molise, Roberti Nonchè, dall'assessore Marone, appunto assessore dei lavori pubblici, che faranno appello al Consiglio di Stato, già hanno predisposto tutto, sicuramente avremo la sospensione di questa sentenza del TAR, ma intanto i lavori al momento sono stati sospesi. E non è la prima volta, quando si sospendono i lavori, tutti quanti dobbiamo sapere che c'è un incremento del costo dell'opera. Quindi quest'opera, che già ha un bel finanziamento di 140 milioni di euro, potrà arrivare anche a 180 milioni di euro. A volte questi soldi io li farei gravare sulle tasche delle persone che si oppongono, a prescindere, senza considerare invece l'effetto benefico che questa opera porterà all'interno del nostro territorio. Se vogliamo crescere, bene la cultura, bene le associazioni, bene tutto, ma prima le infrastrutture, se no a noi non verrà a trovarci più nessuno.